Ciao, sono Sebastiano, vengo da Caratebrianza, ho 37 anni e lavoro come pizzaiolo. Quest'anno a Grande Fratello vorrei portare il mio amico Adriano. Diciamo che lui ha avuto una storia molto particolare che c'è sui giornali, c'è da per tutto. Io sono un esplornatore e mi farebbe piacere accompagnarlo, non è che ci aspettiamo chissà che, però sarebbe una giusta visibilità un po' per tutti e due. Tutto qua, poi valutate voi. Grazie. 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 Grazie.